Gentili signori e signori, un cordiale saluto da Barberino di Mugello in una mattinata grigia. Al momento non c'è pioggia, ma comunque le condizioni del tempo non sono del tutto confortanti. Si apre questa seconda giornata dedicata al ciclismo giovanile dalla società ciclistica Gastone Lencini con l'organizzazione della Coppa Sportivi Bilancino, Gastone Lencini, Collare d'Oro, CONI 2021. Sono gli esordienti del primo anno in questo momento a prendere il via Mossiere, il sindaco di Barberino di Mugello, Mungatti, assieme ad altri rappresentanti dell'amministrazione comunale, per questa gara con 95 atleti alla partenza di 33 formazioni. Grande successo dunque per questa rassegna che quindi continua a dare sicuramente soddisfazioni agli organizzatori tenuto conto dell'alto numero di coloro che appunto hanno appena preso il via e saranno un centinaio anche per quanto riguarda gli atleti del secondo anno. Il percorso è di 35 chilometri, si parte in pratica da via Enzo Ferrari a Barberino di Mugello e si entra sul circuito del lago di Bilancino da ripertere due volte e poi si esce da questo circuito per raggiungere la zona di arrivo. Per quanto riguarda naturalmente la manifestazione, gli sponsor di questa gara li ricordiamo ancora perché sono gli stessi della gara giovanissimi del giorno prima, ma è giusto ricordarli perché sono davvero collaboratori preziosi, sono amici della società ciclistica Gastone Nencini, di Massimo Baccherini che è il presidente, mentre questa mattina ci saranno anche i figli di Gastone Nencini, Elisabetta Nencini e Giovanni Nencini, per la premiazione a queste due gare. Sponsor dunque la CM Carpenteria Metallica di Sara Latini, via Mattei Scarperia, Centrocarta di Sonia Lascialfari, fornitude d'assistenza macchine da ufficio, studi assicurativo Faggi e Faggi, Gruppama Assicurazioni, via Pasolini Campi, la Banca Credito Cooperativo Banco Fiorentino Mugello in Pruneta Signa, la Carrosseria Ponte Torto di Prato, la Unipol Assicurazione Agenzia Generale di Borgo San Lorenzo, la Miche e Traslochi Raugei. Questi sono gli sponsor della manifestazione che vede in questi primi chilometri il gruppo Viaggiare Compatto, come si vede da queste immagini con il numero di gara 64, Cesare Ulivi del Veloclub Scuola Scirmo di Empoli, il suo compagno di squadra Taddei, poi sale con il numero 91 di gara anche giganti della Polisportiva Albergo del Tongo, da segnalare la presenza non soltanto delle formazioni toscane, ma anche diverse società venute da fuori a decretare il successo per questa rassegna. Direzione di gara affidata a Giacomo Martelli e a Cinzia Simonelli, la giuria invece è preseduta da Andrea Goti con Marco Valeri, mentre il giudice di arrivo è Alessia Dell'Innocenti. Veniamo in questo momento proprio il lago di Bilancino, che gli atleti stanno in pratica costeggiando lungo questa panoramica e a gruppo compatto in questi primi 15 chilometri della manifestazione. Infatti siamo praticamente nel corso del primo giro dei due, mentre le condizioni del tempo che preoccupavano gli organizzatori stanno un po' peggiorando. Auguriamoci che non arrivi la pioggia per questi giovanissimi atleti di 13 anni che gareggiano. Tra l'altro questa prova è anche la penultima della Challenge Memorial Tommaso Cavorso, è presente Marco Cavorso con Renato Masini, e quindi una classifica ancora non ben definita per quanto riguarda il vincitore, ma sicuramente sarà interessante vedere chi indosserà le maglie di leader del Memorial Tommaso Cavorso al termine di questa gara. Poi ci sarà l'ultima prova valida per questa Challenge, vale a dire quella su pista, l'ultima riunione su pista in programma a Firenze. E intanto con il numero 31 di gara, la maglia è quella dell'Olimpia Valdarnese del Tong, l'Olimpia Valdarnese con Tommaso Banini, che sta facendo appunto l'andatura e che cerca di uscire poi con il numero 50 anche Filippo Post-Piskel del pedale senese. Eccola la maglia bianco-verde di questo esordiente del primo anno che abbiamo visto protagonista anche in altre occasioni, in altre precedenti competizioni. Ricordiamo la denominazione di questa gara, è la Gastone Nencini, collare d'oro con i 2021 Coppa Sportivi di Bilancino, a ricordare la località dove è nato il grande campione del pedale, Gastone Nencini, un grandissimo campione del nostro ciclismo, la vittoria nel Tour de France, quella al Giro d'Italia, le altre prove ottenute con la vittoria riportata, lo hanno sicuramente inserito tra i più bravi esponenti del ciclismo italiano di tutte le epoche, anche perché oltre alle doti, oltre alle qualità, Gastone Nencini aveva anche quella di essere davvero un vero uomo, come si usa dire. Intanto ancora un'immagine nella zona delle cosiddette gallerie, siamo nella seconda parte, quindi del circuito del lago di Bilancino, e gli atleti in pratica a questo punto stanno tornando verso la zona della Cavallina e verso la zona di Barberino di Mugello, e sono gli esponenti della Borgo Nuovo di Prato, vedete anche Menici che ha vinto due gare in questa stagione, poi con il numero 59 di gara abbiamo anche Luca Iavazzo del team Valdinievole che sta facendo l'andatura in questo momento sulla testa del gruppo, che continua a perire l'altro, a rimanere ancora compatto, mentre già vedete a bordo strada qualche sportivo ha aperto gli ombrelli perché la situazione, lo abbiamo detto, sta peggiorando, il cielo si è coperto e le prime gocce di pioggia cadono sui corridori impegnati su questo circuito, non impegnativo, ma comunque un circuito che presenta anche qualche ondulazione. Con il numero 4 è Domenico Vero Palumbo della Junior Team, una formazione molto quotata che è scesa dalla Lombardia in Toscana per disputare queste due gare nel ricordo di Gastone e Nencini. Intanto eccoci nuovamente dopo aver visto il primo passaggio dalla zona delle gallerie, invece ora siamo nel corso del secondo giro e sempre nella zona delle gallerie, in pratica è stato percorso il primo giro, siamo a circa una quindicina di chilometri dalla conclusione, vediamo con il numero 28 che cerca di forzare i tempi, Pietro Menici, il tredicenne di Montemurlo, due vittorie, una bella rivelazione sicuramente per la stagione 2021 del ciclismo esordiente toscano, è un attaccante nato perché va continuamente all'attacco e questa è un'altra documentazione, è un'altra dimostrazione proprio della voglia di attaccare, è subito la replica da parte anche degli altri, si fraziona leggermente il gruppo, sei o sette atleti vanno a guadagnare la testa e attenzione a questo numero 57, lo citiamo perché si tratta di Massimo Mezzasalma, il tredicenne Livornese che è il plurivittorioso della categoria in Toscana con nove vittorie, e dunque quando si è mosso Menici altri pretendenti alla vittoria si sono portati immediatamente sulla ruota del giovane della Borgo Nuovo. Vediamo in questo momento sempre i setto otto atleti con un leggerissimo margine di vantaggio, si volta Menici per vedere quelli che sono stati gli effetti della sua accelerazione mentre si percorre la seconda parte del circuito e si va verso Barberino di Mugello, verso poi la conclusione della prova, sono dieci ora coloro che si sono portati al comando della gara, i dieci che vedete inquadrati in questo momento sono chiusi da Vero Palumbo Domenico, e poi via via ci sono anche Mazzoleni e Franchina, due atleti della Gazze Inglese, poi con il numero 30 anche Andrea Bonciani dell'Olimpia Valdarnese di Montevarchi, e intanto vedete proprio mezza salma del team Valdinievole che invita gli altri a condurre con maggiore decisione, si porta lui a fare l'andatura, chiede il cambio, il tredicenne che ha dato tante soddisfazioni al team Valdinievole, mentre con l'80 un altro dei più bravi esordienti della provincia di Firenze, vale a dire Luciano Gaggioli, figlio d'arte dell'Unione Ciclistica Empolese. Sono Gaggioli e mezza salma, Bonciani è in terza posizione, coloro che stanno facendo l'andatura in questa competizione allestita dalla società ciclistica Gastone Nencini, seconda giornata di gare giovanili, ieri 156 giovanissimi alla partenza, oggi circa 200 esordienti tra primo e secondo anno, mentre questo è il momento in cui appunto alle spalle si cerca di recuperare l'irrequieto, il brillante Pietro Menici che ha guadagnato qualche decina di metri, continua a voltarsi il tredicenne di Montemurlo, vedete quello che è il vantaggio di Menici nei confronti del primo gruppetto, mentre questa è una immagine sul lago di Bilancino, nel frattempo Menici è stato recuperato e abbiamo ora un gruppo che è di una trentina di concorrenti, in pratica dunque l'azione di Menici ha frazionato, ha sgranato il gruppo, sono rimasti una trentina sulla testa e sono ora a circa 8 chilometri dalla conclusione, infatti si stanno avvicinando alla zona della Cavallina, stanno uscendo in pratica dal circuito del lago di Bilancino, effettueranno anche un leggero tratto in salita, quello che porta verso il centro della frazione barberinese, vale a dire la Cavallina, e poi raggiungeranno il traguardo che invece praticamente si trova sulla circonvallazione di Barberino di Mugello, sulla strada che porta verso Monte Carelli ed il passo della Futa. Intanto è post Piskel, in questo momento a fare l'andatura, Menici in seconda posizione, Mezzasalma in terza, Bonciani in quarta, sono queste le posizioni di testa del gruppo che ormai ha raggiunto la Cavallina, siamo praticamente a 5 chilometri dalla conclusione in questo momento con Menici, sempre lui a fare l'andatura, attenzione anche a Vero Palumbo che è con la maglia arancione numero 4, ora è in quarta posizione, mentre continua con il numero 28 l'esponente della Borgo Nuovo, non chiede nemmeno il cambio, si sposta in questo momento, siamo ora proprio al passaggio dal centro della località La Cavallina, quindi effettuato anche il breve tratto in salita, non ci sono assolutamente più difficoltà a questo punto, una breve discesa, tra l'altro i corridori transitano in questo momento anche nei pressi dove ha sede la nostra emittente televisiva Teleiride, mentre vediamo proprio che torna una certa calma nel gruppo, infatti Menici, ora affiancato da altri concorrenti, sono una trentina coloro che stanno viaggiando verso il traguardo con Vero Palumbo a fare l'andatura, Gaggioli, poi Menici, quindi abbiamo anche l'altro esponente della Borgo Nuovo, vale a dire il campione provinciale pratese Davide Nanni, che è sulla ruota del compagno di squadra Menici, e comunque quelli che erano considerati i maggiori favoriti sono tutti presenti in questo gruppo che sta ormai entrando praticamente in Barberino di Mugello e che dovrà ancora effettuare circa tre chilometri prima della conclusione su un lungo rettilineo dove è posto il traguardo di questa competizione, la prima delle due in programma, quella riservata agli esordienti del primo anno è sponsorizzata da CM Carpenteria Metallica, dal Centro Carta Studio Assicurativo Faggi e Faggi, dalla Banca Credito Cooperativo Banco Fiorentino Mugello in Pruneta Signa, dalla Carrozzeria Ponte Torto, dalla Unipol Assicurazione Agenzia Generale di Borgo San Lorenzo, da Miche e da Traslochi Raugei, questi li sponsor per la società ciclitica Gastone Nencini, piena soddisfazione del Presidente Massimo Baccherini, il ritrovo è avvenuto appunto nella zona prossima alla conclusione della corsa, quindi alla zona del traguardo, nel rispetto naturalmente dei protocolli sanitari anti-covid-19 che sono stati rispettati da tutti con la misurazione della temperatura e poi naturalmente con la dichiarazione che è stata resa dai vari direttori sportivi, dai vari addetti ai lavori. Dunque post Piskel a fare l'andatura, Bonciani in seconda posizione, Bonciani che tiene in maniera particolare al Challenge Memorial Tommaso Cavorso, mentre vediamo in questo momento con il numero 53 di gara l'esponente della piano di Momio Lissac a fare l'andatura, post Piskel in seconda posizione, Nanni in terza, Bonciani in quarta, Mezzasalma in quinta posizione, mentre si sta attraversando Barberino di Mugello, un paio di chilometri alla conclusione della prova. In questo momento la nostra moto anticipa leggermente il gruppo che va a contendersi il successo al termine dei 35 chilometri che hanno visto praticamente il gruppo viaggiare sempre compatto, c'è stato soltanto attorno al 25esimo chilometro l'allungo di Pietro Menici della Borgo Nuovo, ora a fare l'andatura del gruppo, il quale ha guadagnato una cinquantina di metri, ma subito c'è stata la replica da parte degli inseguitori e si è formato questo gruppo piuttosto folto che ormai è prossimo a iniziare lo sprint al termine della prima manifestazione. Siamo all'ultimo chilometro, come ci mostra il triangolo rosso, con l'Isac, con Nanni nelle prime posizioni, e poi con il numero 91 di gara, anche giganti della polisportiva Albergo del Tongo, casacca bianco-rossa, queste le posizioni sulla testa del gruppo che si sta studiando, si stanno controllando i vari concorrenti prima di lanciare la volata, che ha un favorito d'obbligo mezza salva, ma lo abbiamo detto, ci sono diversi esponenti estraregionali ben dotati e quindi vedremo come... Ed è proprio Giganti che lancia lo sprint, inizia lo sprint numero 91, l'esponente della polisportiva Albergo che lancia questa volata, Pospiskel è in seconda posizione, lo vedete in questo momento, è lui comunque che ha aumentato l'andatura, mentre i corridori hanno fatto praticamente ormai il loro ingresso sul lungo rettilineo, 500 metri alla conclusione, uno sprint che poi vedremo anche dalla telecamera fissa sul traguardo, infatti ecco qua Giganti, sempre lui a condurre il gruppo nella zona di ritrovo della manifestazione, ultimi 200 metri, e intanto esce, lo vedete in questo momento, Massimo Mezzasalma del team Valdinievole sull'estrema sinistra, ed è il corridore livornese davanti a tutti, è la decima vittoria per Mezzasalma davanti a Vero Palumbo, quindi Pospiskel, Franchina, Di Riccio, Bonciani, Menici, Caggioli, Cianti e Mazzoleni, questo l'ordine d'arrivo per quanto riguarda il primo anno, presente anche Leonardo Gini, presidente del Comitato Provinciale di Firenze, ad assistere a questa prima competizione. E questo è il podio per quanto riguarda la gara del primo anno, Massimo Mezzasalma, la fretta del team Valdinievole, ha ottenuto nuovamente il successo, mentre in seconda posizione si è classificato Vero Palumbo che è qui, atleta è giunto da fuori Toscana a gareggiare qui a Barbenino di Mugello e poi il terzo posto per quanto riguarda Pospiskel del pedale senese. Massimo, grande volata anche in questa occasione per ottenere un nuovo successo. Sì, è stata una gara molto difficile dove in primo mucine è scattato Filippo, secondo è partito nella salita, il pezzo più duro è Menici e lì ho detto bisogna recuperarlo però se no perdiamo la gara. Abbiamo collaborato tutto il gruppo e ce l'abbiamo fatta a recuperarlo. Siamo alle battute finali della stagione, continui a vincere tranquillamente così come avevi iniziato. Sì, sono molto contento di queste posizioni che abbiamo fatto quest'anno. Eccoci con Vero Palumbo che ha ottenuto il secondo posto, una volata lunga su questo rettilineo. Sì, non sono riuscito a prendere le ruote sono rimasto all'aria un po' dall'ultimo chilometro poi sono riuscito a prendere una ruota sono uscito lungo per cercare di rimontare sono riuscito a rimontare e è arrivata a questa seconda posizione. Grazie, complimenti, eccoci con l'atleta del Pedale Senese un nuovo piazzamento in attesa magari di centrare la vittoria prima o poi. Sì, ero scattato al primo giro ero riuscito a prendere un po' di distacco ho fatto un pezzo in fuga poi mi hanno ripreso a quel punto ho ottenuto le ruote ho provato a farla volata e ai 50 metri ero primo poi mi hanno superato sulla riga in due. E sotto una pioggia battente stanno per prendere il via gli esordienti del secondo anno vedete come le condizioni siano peggiorate una pioggia davvero torrenziale si sta battendo nella zona di Barberino di Mugello al momento in cui prende il via la gara riservata agli esordienti del secondo anno torniamo per un attimo a quella del primo anno avete visto le premiazioni con Giovanni Nencini figlio di Gastone Nencini che le ha effettuate le ha consegnato i vari trofei ai primi tre poi avete visto anche il nuovo leader della classifica del Memorial Tommaso Cavorso Andrea Bonciani dell'Olimpia Valdarnese che ha ricevuto la speciale maglia da Marco Cavorso presenti anche il sindaco di Barberino di Mugello Mungatti e altri esponenti dell'amministrazione comunale quindi diversi ospiti per questa rassegna questa rassegna che ora prosegue con questa gara che è più lunga 49 km in programma perché anziché due giri sono previsti tre giri del lago di Bilancino ed è veramente una condizione a questo punto climatica difficile per i giovani che hanno preso il via in 99 per dar vita a questa seconda competizione riservata agli esordienti del secondo anno auguriamoci che questa pioggia diminuisca la sua intensità altrimenti c'è anche il rischio di dover accorciare la gara e infatti l'intendimento magari di togliere un giro qualora dovesse continuare questa pioggia così battente che ha accompagnato la partenza di questi 99 atleti che stanno dando vita a questa coppa sportivi Bilancino Gastone Lencini con l'area d'oro CONI 2021 e per fortuna la situazione meteorologica è migliorata piove ancora ma in minore intensità mentre vediamo questo primo allungo da parte del numero di gara 66 maglia del team Valdini Evole si tratta di Lorenzo di Ramon Pablo Rocchi che aveva provato in precedenza un tentativo proprio l'atleta del team Valdini Evole ora il suo compagno di squadra Lorenzo Bertuccelli che prova ad allungare quindi due atleti del team Valdini Evole subito in evidenza e questo è il secondo tentativo che documentiamo con le immagini e vediamo vantaggio limitato in un tratto in salita mentre il gruppo si va ricomponendo in questo momento anche qui diverse le formazioni extra regionali presenti mentre con il numero 95 lo vedete è Niccolò Iacchi della polisportiva a mille luci si muove anche uno dei favoriti d'obbligo di questa manifestazione vale a dire Gerolamo Manuel Mighelli numero 72 del Veloclub Scuola Ciclismo di Empoli mentre in questo momento proprio Mighelli va a fare l'andatura sulla festa del gruppo allungato c'è anche lo vedete in questo momento con la casacca della formazione della San Cascianese numero di gara 52 si tratta di Giulio Pavi degli Innocenti altro favorito questo è il tratto che i corridori attraversano nella zona la Cavallina mentre vanno praticamente a iniziare a questo punto un nuovo giro infatti questa è la conclusione del primo giro dei tre in programma con il gruppo molto allungato andatura abbastanza sostenuta che sotto la pioggia continua a dar vita a questa manifestazione sponsorizzata dalla CM Carpenteria Metallica di Sara Latini Scarperia Centrocarta di Sonia Nascalfari Barberino di Mugello lo studio assicurativo Faggi e Faggi Grupama Assicurazioni di Campi Bisenzio Banca Credito Cooperativo Banco Fiorentino Mugello in Pruneta Signia Carrosseria Ponte Torto Prato la Unipol Assicurazioni Agenzia Generale di Borgo San Lorenzo la Miche e Traslochi Raugei questi sono gli sponsor ufficiali ai quali va il ringraziamento di Massimo Vacherini della società ciclistica Gastone Lencini un ringraziamento anche alla pubblica assistenza Buterlin di Parberino di Mugello presso una sede presso la sua sede è avvenuto il ritrovo e poi naturalmente ha messo a disposizione questa associazione i mezzi sanitari con i quali appunto stanno seguendo la manifestazione nuovo tratto in salita lungo questo anello attorno al lago di Bilancino per gli atleti questa è la zona delle gallerie per quanto riguarda appunto il secondo giro ed il gruppo compatto l'andatura si è tranquillizzata dopo che c'era stato dal lungo di Bertuccelli la replica di Mighelli quella di Pavide l'Innocenti e quindi ora occupa l'intera sede stradale in questo momento il gruppo dei concorrenti impegnati in questa prova riservata agli esordienti del secondo anno ricordiamo che domenica prossima c'è un altro grande appuntamento per la categoria esordienti a Monsumanoterme al mattino due gare tradizionali nell'ultima domenica del mese vale a dire quelle organizzate dal Veloclub Monsumanese 1992 del presidente Marco Bettaccini che abbiamo visto appunto a seguire da vicino le fasi di questa gara magari a contattare le varie società giunte da fuori Toscana due gare che comunque sicuramente avranno grande successo come è sempre avvenuto anche nelle edizioni precedenti numero 98 si tratta di Mirko Damiano della polisportiva Mille Luci e all'attacco in questo momento qualche decina di metri guadagnata su questo scatto da parte del giovane della società pistoghese anche questa seconda gara di Barberino di Mugello naturalmente è valida per la Chalange la decima edizione del Memorial Tommaso Cavorso al termine sarà fatta indossare la speciale maglia con le figie con la figura di questo indimenticabile giovane tredicenne ucciso durante un allenamento da un furgone in sorpasso in una zona dove non era nemmeno consentito di farlo e ricordiamo che questa è la penultima prova di questa Chalange l'ultima sarà invece la riunione su pista a Firenze che si rivolgerà in settimana intanto è tornato nuovamente il gruppo compatto Damiano è stato ripreso queste immagini sono già nel terzo giro con il gruppo lo vedete in questo momento che sta viaggiando a ranghi compatti ecco qua in questo momento quello che ci mostra appunto il nostro operatore con queste immagini mentre la pioggia non ha mai abbandonato i corridori impegnati in questa seconda gara anche se è diminuita di intensità rispetto a quella torrenziale che ha accompagnato la partenza della manifestazione e ha messo anche in pericolo l'effettuazione completa dei 49 chilometri previsti poi per fortuna situazione migliorata e dunque la gara si potrà concludere con il chilometraggio previsto tanto c'è molto controllo sulla testa gli esponenti della junior team una formazione molto forte per quanto riguarda la categoria esordienti nelle prime posizioni ora la nostra moto naturalmente continua a seguire anticipando di qualche metro il gruppo condotto proprio dagli esponenti di questa formazione mentre vediamo in questo momento che l'andatura si vivacizza con gli atleti che si allungano quindi il gruppo che occupava fino a qualche istante fa l'intera sede stradale ora invece è in fila indiana con questa accelerazione intanto il numero 11 per Bortolami che ha vinto quattro gare in questa stagione ed è Bortolami che guadagna questi 20 metri di vantaggio nei confronti del gruppo lo vedete l'atleta infatti della formazione lombarda quindi la reazione del gruppo non è ancora iniziata mancano peraltro ancora una dozzina di chilometri alla conclusione di questa prova e la nostra moto si porta in equitamento sul nuovo battistrada infatti c'è stato un allungo qualche istante fa un allungo da parte del concorrente contrassegnato con il numero 6 Lorenzo Guglielmi Lombardo della Junior Team che non ha ancora vinto in questa stagione e attenzione perché il gruppo non reagisce ha già guadagnato una ventina di secondi di vantaggio e va aumentando il margine per il corridore al comando mentre lo vediamo impegnato sempre sul circuito del lago di Bilancino prima di giungere alla Cavallina e quindi percorrere l'ultimo tratto pianeggiante verso la conclusione non ha avuto fortuna quest'anno questo giovane infatti ha avuto qualche contrattempo molto sfortunato nella prima parte della stagione ora cerca dopo aver ottenuto alcuni piazzamenti di centrare in Toscana il primo successo stagionale e vedremo se riuscirà dell'impresa c'è da sottolineare un aspetto ci sono molti compagni di squadra di Guglielmi nel gruppo infatti stanno controllando la reazione dello stesso che non c'è e infatti ora sono già 35 secondi di vantaggio per il corridore al comando della gara e allora andiamo a vedere quello che succede proprio nel gruppo ed è questa la documentazione vedete due maglie tre maglie anzi praticamente sulla testa del gruppo vedete il numero 11 il numero 5 il numero 8 sono tutti compagni di squadra del Battistrada con il 5 Marcolli con il numero 8 Luciani con gli 11 Bortolami stanno controllando la reazione del gruppo che non c'è e infatti 44 secondi è il nuovo vantaggio che ci viene comunicato per il Battistrada nei confronti del gruppo siamo ormai negli ultimi 10 chilometri di questa competizione 8 alla conclusione con il gruppo che già ha tardato di oltre 40 secondi rispetto al bravissimo Lorenzo Cuglielmi che ha preso decisamente l'iniziativa e grazie anche alla copertura che stanno attuando i compagni di squadra lo vedete in questo momento Damiano della Polisportiva Mille Luci ma subito due compagni di squadra del Battistrada sempre con il numero 5 Marcolli e con il numero 11 Bortolami a fare l'andatura sulla terza del gruppo per frenare la reazione dello stesso e ora sono già 50 i secondi di vantaggio per Guglielmi corridore che vola a questo punto verso il traguardo di Barberino perché intanto siamo già nella zona la Cavallina quindi 5 chilometri circa alla conclusione della prova in questo momento ancora un primo piano su Bortolami abbiamo detto 4 le vittorie per lui in questa stagione gli altri nessuno prova a vivacizzare l'andatura ora lo vediamo in questo momento numero di gara 53 per l'atleta della San Cascianese Ferruzzi Emanuele Ferruzzi vincitore quest'anno lo ricordiamo della Coppa nel ricordo di Giovanni Iannelli a Carminiano mentre vediamo l'attraversamento della località la Cavallina ma sono sempre 50 i secondi di vantaggio per Lorenzo Guglielmi che è l'attuale battistrada mentre la nostra moto si attarda sul gruppo per vedere se c'è reazione se c'è qualche tentativo di uscita a parte quello di Ferruzzi che abbiamo visto allora è il momento di tornare a questo punto sul battistrada che ormai non è lontano dal traguardo intanto anche il sole in questo finale fa capolino comunque la pioggia è stata abbastanza tutto sommato benigna nei confronti degli atleti e a parte la partenza della gara mentre per Lorenzo Guglielmi la vittoria è davvero sempre più vicina perché ormai il suo vantaggio si è stabilizzato sui 50 secondi e per l'atleta della Junior Team P e G il quale vola verso il traguardo di Via Enzo Ferrari per ottenere il successo mille metri alla conclusione ecco qua il suo direttore sportivo che lo sta incitando lo invita a insistere ma ormai a questo punto a partita vinta Guglielmi merita ampiamente questa vittoria una decina di chilometri di fuga solitaria un vantaggio che subito è salito attorno al mezzo minuto ma poi ha continuato ad aumentare ed ha raggiunto la soglia massima dei 58 secondi ora è di 45 secondi ma ormai il traguardo è a circa 500 metri si volta Lorenzo Guglielmi la Junior Team va a segno grazie a questo giovane atleta 14 anni prima vittoria stagionale per lui in Toscana mentre naturalmente alle spalle poi vedremo quella che sarà la volata del gruppo e intanto ecco qua ancora le ultime immagini prima di passare a quelle della telecamera fissa sul traguardo che ci mostrano a 400 metri dalla conclusione il solitario battistrada è lui che va ad ottenere successo nella Coppa Sportivi di Bilancino Gastone Lencini collare d'oro coni 2021 ultimi 200 metri ormai per il solitario battistrada ed eccolo già a braccia alzate esulta e giustamente ha ragione Lorenzo Guglielmi va a conquistare il successo sul traguardo di Barberino di Mugello gli applausi meritati per lui e per questa sua prima vittoria stagionale intanto arriva in questo momento anche il gruppo la seconda telecamera ce lo mostra ai 200 metri ed ora lo sprint sulla sinistra la maglia gialla quella di Manu di Mighelli ed è Mighelli davanti a Bortolami Morlino Pavidell'Innocenti Luciani Tavanti Paltrinieri Frasconi e Cremonini e dunque la maglia di leader del Memorial Tommaso Cavorso va sulle spalle come si vede da questa immagine di Gerolamo Manuele Mighelli dopo questa prova vinta invece da Guglielmi su Mighelli e Bortolami una copiata di lusso quella della Junior Team perché qui abbiamo Lorenzo Guglielmi che è il brillante vincitore per distacco e poi Bortolami che ha ottenuto il terzo posto secondo nella volata del gruppo una gran bella vittoria per distacco qui in Toscana Lorenzo sì sì sul sale scendi ho visto che molti cercavano di anticipare la volata io essendo non bravo in volata ho anticipato sono scattato in contropiede contro il numero 52 sono riuscito a prendere quel distacco che mi bastava per riuscire a vincere grazie complimenti complimenti vanno fatti anche a Bortolami che ha completato il successo di squadra della Junior Team con questo terzo posto è andata bene ero sempre dietro e poi sono risalito agli ultimi chilometri perché mi scivolava la ruota dietro e ho fatto la volata siamo con Geromo Emanuele Migheri hai regolato il gruppo per il secondo posto davvero imprendibile questo vincitore sì purtroppo a due chilometri dalla fine del giro della Gol Bilancino è partito questo ragazzo e è riuscito ad andare via dietro non c'era accordo per riprenderlo e è riuscito ad arrivare all'arrivo ieri sulla pista intitolata a tuo padre Gastone Nencini oggi sempre in questa zona del Mugello ricordando la Coppa Sportivi di Bilancino la località dove nacque Gastone Nencini con queste due belle gare per esordienti che ormai sono tradizione per il mese di settembre sì sono state belle combattute il vincitore dell'ultima competizione è arrivato al traguardo da solo Elisabetta la consegna ufficiale del collare d'oro CONI 2021 nel ricordo appunto di Gastone Nencini ci sarà una cerimonia particolare è stata fissata ancora non è stata fissata sicuramente sarà a breve prima della fine dell'anno è un bellissimo riconoscimento che alla memoria a mio avviso ancora più più importanza no perché sta a significare quello che veramente è il senso dello sport e dell'essere e dell'essere campioni che comunque non è il campione che non ha tempo e il collare d'oro in questo caso consegnato al mio babbo è un modo anche per per io almeno io lo voglio dedicare proprio a tutti questi giovani che si impegnano nello sport grazie Elisabetta grazie noi concludiamo qui da Barberino di Mugello ricordando dunque la vittoria di Massimo Mezzasalma del team Valdinievole nella gara del primo anno il successo di Lorenzo Gugliermi della Junior Team invece in quella del secondo anno ricorda ancora Andrea Bonciani e Geromo Emanuele Migheri due litere della Challenge Tommaso Cavorso prima dell'ultima prova di martedì a Firenze su pista grazie per averci seguito a tutti buon approcciamento di serata